La domanda che l'amministrazione ha fatto è nel risale del 24 febbraio. Non è stata attivata prima perché era in esercizio il contatore di cantiere. Per fare una fornitura, quindi l'installazione del contatore dedicato ai due ascensori, è una fornitura di 45 kW, una potenza necessaria nel caso dovessero, è neanche troppo un caso, anzi capiterà che entrambi gli ascensori funzionino e quindi c'è bisogno di quella potenza, va però fornita da una cabina che non è proprio nell'immediata vicinanza, è in via di Prandi. E quindi fin tanto che è stato in esercizio il contatore di cantiere non si poteva attivare l'altra fornitura. Però Enel, che abbiamo coinvolto sin dal 24 febbraio, ci ha assicurato che nel giro di qualche giorno anche gli ascensori potranno andare perché sarà appunto garantita questa fornitura. Ho risposto a tutto, credo.